Sì, soprattutto nel primo ma anche poi nel secondo è stato abbastanza difficile per noi però sono contenta per come ne siamo uscite, ne siamo uscite tutti insieme, ne siamo uscite la squadra quindi questa è la cosa che dobbiamo portarci dietro per le prossime partite sicuramente. Sì, sicuramente appunto come ho detto prima ci portiamo una cosa positiva da questa esperienza e magari sì ci ha fatto bene, assolutamente, io credo che ci sia sempre qualcosa da imparare da ogni situazione quindi anche questa ci avrà insegnato sicuramente tanto. Adesso la Francia, vediamo come andrà, ovviamente dobbiamo ancora guardare i video perché giocando tante partite in pochi giorni non c'è sempre troppo tempo se sono arrivati fin qui sicuramente sono un'ottima squadra, però insomma vediamo. Grazie